Quando lo pionda è claudata, mi pare che lui sia del dito di cuore. Ecco, quello che ho detto, io sono l'altro che mi ho preso, se no sono l'altro. Questo è il rambini. E' partita subito. Questa è brutta, non è troppo degli ammagerati. Beh, qui è una bella macchina, bello tutto, ammagerati, tutto. Però aveva dei grossi problemi di essere pronti a questa macchina. E poi aveva degli incendi, aveva delle piscine, aveva dei materiali così scassi, però non muore. Lì ha la cura, mi mettersi lì, la porta è dura. E allora c'è un po' di svito, un po' di... D'altro l'altro, guarda. Sono delle vecchie signorali. E prima di fare le corse mi veniva andare. No, per carica, certo. Si crepa. Il cielo, ah no, ecco, mi sembrava che se ne veniva giù anche lui. Ok. 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 Grazie a tutti.